E andiamo avanti, andiamo avanti, lei viene da Napoli, ci propone un romantico acto ispirato ai contrasti del fuoco e dell'aria, nel burlesque lei dice trovo ogni giorno se stessa e il suo amore per la vita, dolcemente sensuale, con una coreografia dal titolo Allegria, signori e signori, Amira Rose. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie.